e un ringraziamento a Adriano Baldassare del Tordomatto Alba Esteve Luis del Marzapane, sempre di Roma ma fatemi vedere, fatemi vedere, oh ecco per favore Alessandro Narducci della Colina e poi Andrea Fusco del Giuda Ballerino Angelo Troiani dei Conviglio Troiani Cristina Bowerman, eccola qua, di Glass Osteria Daniele Usai del Tino Davide del Duca, Fernanda Osteria Francesca Freda, il mago dell'Ostel Hasler Giulio Terrinoni, per me Heinz Beck, nella Fergola Roy Caseres, di Metamorfosi e infine Stefano Marzetti, di Mirabed, Oseosplendit Royale Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!